buona domenica a tutti ragazzi oggi come dei buoni giapponesini siamo andati al parco siamo a Ueno e fa giusto un velo freschino poco 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 comunque Anakin è talmente famoso qua che ci fanno anche gli zaini con la sua faccia io sto male però che bello che me lo voglio comprare anche io questo parco mi ricorda molto molto qualcosa credo che nel tempio l'infondo dovrò cercare un ferispalla proprio così così c'è una tranquillità incredibile qua ragazzi siamo dentro tokyo non si sente volare una mosca e questo ragazzi ovviamente un altro yokai si chiama shiza chi vi ricorda giù nei commenti dai giù nei commenti e ragazzi giù a buttarci i 100 yokai money se volete i yokai belle se volete crancare bene vai giù a lanciarli qua vengo in pace corvi vengo in pace vengo in pace Dynamo lui è Dynamo non è vivo è vivo ragazzi è arrivato pure kabukio siamo a posto vabbè oggi mangiamo con un mega spiedino di granchio reale del pacifico dell'artico del giappone dello snow crab dell'olona mamma mia ragazzi ecco un giovane fan di yokai che mi sa che spacca un attimo a sto gioco c'ha un cifro di medaglie robe nuove prima va il team di doppio lascio non lo so cosa sia sta roba sto cercando di capirlo ragazzi guardate che belli sono troppa roba sono tutti quelli che sono usciti spettacolare oggi pomeriggio ragazzi è da chiabara perché la strada principale è chiusa quindi c'è un bordello di gente e nel frattempo ci cerchiamo qualcosa di usato bello un po' di retro gaming tanta roba ci piace un sacco a chiabara tanta tanta roba se non sapete come scrivere e come usare il touchscreen del 3ds spettacolo eccoli lì quelli di mario kart lancia una banana lancia una banana ciao ciao